cari fratelli e sorelle buongiorno proseguiamo la nostra catechesi sul tema della preghiera il libro della genesi attraverso le vicende di uomini e donne di epoche lontane ci racconta storie in cui noi possiamo rispecchiare la nostra vita nel ciclo dei patriarchi troviamo anche quella di un uomo che aveva fatto della scaltrezza la sua dotte migliore giacove il racconto biblico ci parla del difficile rapporto che giacove aveva con suo fratello e saù fin da piccoli tra loro c'è rivalità e non sarà mai superata in seguito giacove è il secondo genito erano gemellini ma con l'inganno riesce a carpire al padre issacco la benedizione e il dono della prima genitura è solo la prima di una lunga serie di astuzie di cui questo uomo spregiudicato è capace anche il nome giacove significa qualcosa di chissà muoversi non direttamente significa quella scaltrezza nel muoversi costretto a fuggire lontano dal fratello nella sua vita pare riuscire in ogni impresa e abile negli affari si arricchisce molto diventando proprietario di un grege enorme con tenaccia e pazienza riesce a sposare la più bella delle figlie dell'abano di cui era veramente innamorato giacove giacove diremmo con linguaggio moderno è un uomo che si è fatto da solo con l'ingegno la scaltrezza riesce a conquistare tutto ciò che desidera ma gli manca qualcosa gli manca il rapporto vivo con le proprie radici e un giorno sente il richiamo di cassa della sua antica patria doveva ancora vive dove ancora viveva esaù il fratello con cui sempre era stato in pessimi rapporti giacove parte e compie un lungo viaggio con una carovana numerosa di persone e animale finché arriva l'ultima tappa al torrente Giaboc qui il libro della Genesi ci offre una pagina memorabile racconta che il patriarca dopo aver fatto attraversare il corrente a tutta la sua gente e tutto il bestiame che era tanto rimane da solo sulla sponda straniera e pensa che cosa lo attende per l'indomani che atteggiamento assumerà suo fratello Esau al quale aveva rubato la primogenitura la mente di Giacove è un turbinio di pensieri e mentre si fa buio all'improvviso uno sconosciuto lo afferra e comincia a lottare con lui il catechismo spiega la tradizione spirituale della chiesa ha visto in questo racconto il simbolo della preghiera come combattimento della fede e vittoria della perseveranza Giacove lottò per tutta la notte senza mai lasciare la pressa del suo avversario alla fine viene vinto colpito dal suo rivale al nervio sciatico ed allora sarà zoppo per tutta la vita quel misterioso lottatore chiede il nome al patriarca e gli dice non ti chiamerai più Giacove ma Israele non sarai mai l'uomo che cammina così ma diritto gli cambia il nome gli cambia la vita gli cambia l'atteggiamento ti chiamerai Israele perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto allora anche Giacove chiede all'altro svelami il tuo nome quello non glielo rivela ma in compenso lo benedice e Giacove capisce di aver incontrato Dio faccia a faccia lottare con Dio una metafora della preghiera altre volte Giacove si era mostrato capace di dialogare con Dio di sentirlo come presenza amica e vicina ma in quella notte attraverso una lotta che si protrae a lungo e che lo vede quasi soccombere il patriarca esce cambiato cambiare il nome e cambiare il modo di vivere e cambiare la personalità esce cambiato per una volta non è più padrone della situazione la sua scaltressa non serve non è più l'uomo stratega calcolatore Dio lo riporta alla sua verità di mortale che trema e ha paura perché Giacove nella rotta aveva paura per una volta Giacove non ha altro da presentare a Dio che la sua fragilità e la sua impotenza anche i suoi peccati ed è questo Giacove a ricevere da Dio la benedizione con la quale entra zoppicando nella terra promessa vulnerabile e vulnerato ma con il cuore nuovo una volta senti dire a un uomo anziano buon uomo, buon cristiano ma peccatore che aveva tanta fiducia in Dio e diceva Dio mi aiuterà non mi lascerà da solo entrerò in paradiso soppicando ma entrerò prima era un sicuro di sé confidava nella propria saltrezza era un uomo impermeabile alla grazia refratario alla misericordia non conosceva cosa fosse la misericordia era lui qui sono io comando io non aveva bisogno di misericordia sentiva lui ma Dio ha salvato ciò che era perduto gli ha fatto capire che era limitato che era un pecatore che aveva bisogno di misericordia lo salvò tutti quanti noi abbiamo un appuntamento nella notte con Dio nella notte della nostra vita nelle tante notti della nostra vita momenti oscuri momenti dei peccati momenti di disorientamento lì c'è un appuntamento con Dio sempre egli ci sorprenderà nel momento in cui non ce lo aspettiamo in cui ci troveremo a rimanere veramente da soli in quella stessa notte combattendo contro l'ignoto prenderemo coscienza di essere solo poveri uomini mi permetto di dire poveracci ma proprio allora nel momento che io mi sento un poveraccio non dovremo temere perché in quel momento Dio ci darà un nome nuovo che contiene il senso di tutta la nostra vita ci cambierà il cuore e ci darà la benedizione riservata a chi si è lasciato cambiare da Lui questo è un bel invito a lasciarci cambiare da Dio Lui sa come farlo perché conosce ognuno di noi Signore Tu me conosci può dire ognuno di noi Signore Tu me conosci cambiami grazie Grazie